E' pronto? Si E' lei che mi ha risposto? Io sono la signora di Via della Sirena No signora, mi dica Si può qualificare per gentilezza perchè adesso i ragazzi sono andati via Mi dica Si può qualificare? Lei mi può dire chi è? Ma io non sono tenuta a dirla Lei mi è tenuta a dirla Io le dico chi sono io ma lei mi deve dire chi è lei Ma lei... Erano qui i ragazzi con le sfranghe Hanno spaccato tutto in Via della Sirena Lei si può qualificare per gentilezza? Si ma ma si può sapere lei cosa vuole? Si può qualificare? No Io non sono tenuta a dirle Si può qualificare? Guardi che vado dalla sezione Leggevo a Genova Foce dove è mio cognato E io le faccio un esposto Si ma ma io non sono tenuta a dirle io Per gentilezza mi qualifichi Non è venuto nessuno l'ho chiamato dieci volte Hanno spaccato tutto Ma lei non ha parlato con me Via della Sirena Io non l'ho messo Mi ha risposto una donna E' una donna secondo lei In polizia c'era una sola donna Il mio telefono L'estratto delle mie telefonate lo confermerà Erano sei persone Potevate prenderle erano circoscritte Hanno abusato di droghe C'è pieno di siringhe hanno spaccato tutto Vi ho chiamato dieci volte e non siete venuti Nessuno è venuto Nessuno si è degnato di venire Per cui per gentilezza si qualifichi Se ne vado a fare un esposto Non penso proprio signora Per me lei può urlare all'infinito Dopodichè mi qualificherò io No non penso proprio guardi Si qualifichi Urli urli Se si deve rispondere Questi ragazzi erano pieni di spranghe Hanno spaccato tutto Con i guantoni Ho telefonato dieci volte Cinque volte al cento tredici E cinque volte al cento tredici Signora ma pensa che questo qua ci è successo solo da lei in tutta Genova Ecco Ah erano in cinque E quelli che chiamano in cinque Vabbè allora tutto per iniziare Tanto per iniziare abbassi la voce Sì signora Signora lei Confermerà che le ho chiamate Benissimo signora Certo ma io non ci penso Ma lei può mandare chi vuole Ma lei non sape quello che vuole Ma lei ha il diritto di qualificarsi No no io no proprio per niente guardi Proprio assolutamente Lei venga Sì va bene signora questo non è l'emergenza Sì arrivederci Sì arrivederci